Sono ben 41 le persone con disabilità coinvolte e con successo nel progetto pluriannale Prove di Volo, finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dall'Associazione di Volontariato Gli Altri Siamo Noi. L'obiettivo era quello di favorire l'inclusione sociale di giovani e adulti con disabilità intellettiva. I risultati sono questi, prodotti che adesso andranno sul mercato e magari diventeranno subito dei bei regali di Natale. Il progetto si è avvalso della collaborazione dell'Asp di Cosenza e della Regione Calabria. Abbiamo messo in piedi un servizio di consulenza, sempre mirata all'inserimento lavorativo e non solo, un servizio di valutazione delle competenze dei ragazzi in partenza e a fine programma, diciamo attività che noi svolgiamo, un servizio di inserimento lavorativo che è stato realizzato in collaborazione con l'azienda sanitaria di Cosenza e poi abbiamo avviato una serie di attività laboratoriali di preparazione al lavoro, sette in tutto i laboratori, che adesso praticamente trovano lo sbocco all'interno di una start-up di impresa sociale in cui questi prodotti realizzati all'interno dei laboratori diventeranno prodotti in vendita e quindi diventeranno anche l'elemento di lavoro per i nostri ragazzi insieme agli operatori che hanno costruito questo progetto. Nasce dunque adesso una cooperativa che partendo dal progetto Prove di Volo si chiamerà Volando Oltre e sarà una vera impresa assolutamente inclusiva in cui lavoreranno persone con e senza disabilità per dimostrare che se si vuole anche un sogno può diventare realtà. Non è possibile fare l'inserimento di persone con disabilità intellettiva pensando solamente a fargli fare qualche tirocinio formativo di durata varia senza che ci sia una preparazione a monte. Questo progetto ha voluto proprio costruire il lavoratore per poi lanciarlo in maniera che possa avere successo all'interno del mondo del lavoro.